Ora ci vedete tutti, li vedete tutti, mi auguro che tutti quanti siano anche in grado di ascoltare. Innanzitutto voglio iniziare a dare il benvenuto a tutti quanti voi all'Ambasciata Americana, sono felice che siete riusciti ad arrivare qui. Abbiamo avuto il segretario Kerry, un'importante riunione multiradale sulla Siria, siamo qui oggi pomeriggio, venerdì pomeriggio con noi e sarà un pomeriggio molto molto interessante. Una cosa, incoraggiamo nel corso del pomeriggio, voi che siete qui o che ci guardate da casa sul stream web, commenti, domande, qualsiasi cosa vogliate dire, siamo su Twitter con l'hashtag social media, per cui se avete un commento, domanda, una qualsiasi cosa che volete dire nel corso del pomeriggio, scrivete hashtag social media e Alessandro monitorerà tutto qui in sala con noi. Sarà un pomeriggio interessante, si parlerà dell'interscabio fra i social media e la leadership del XX secolo. Abbiamo due partecipanti, innanzitutto voglio ringraziare Simona Cavalieri, che è il presidente della società per l'innovazione sociale, e voglio presentare Nicoletta Dentico, che è con l'organizzazione se non ora quando ci dirà qualcosa prima che inizieremo invece con la nostra principale oratrice. Quindi Nicoletta, lei la parola. Grazie mille, benvenuti a tutti, e vorrei ringraziare l'ambasciata, l'ambasciata americana, perché svolge sempre un ruolo creativo, di mobilizzazione nel promuovere il dialogo pubblico su questioni che sono estremamente importanti per tutti quanti noi, mette insieme le persone, riunisce le persone, e questa è una cosa che noi apprezziamo sempre tantissimo e credo che a nome per conto delle due organizzazioni desidero veramente esprimere la nostra gratitudine per questo evento pomeridiano, che arriva, come ha detto lei, in un momento ricco di altri eventi, il Papa e la visita del Segretario di Stato qui in Italia. Desidero anche ringraziare Elisabeth Lender per trovare tempo nel suo programma molto intenso per poter parlare e discutere di questa questione del ruolo dei social media e dell'interazione dei social media con la società nel ridisegnare la leadership. Elisabeth, non riesco a immaginare un paese, un luogo, in cui questo argomento sia più importante e pertinente di quanto non lo sia in Italia in questi giorni, anzi in queste ore. Ancora siamo un po' a riprenderci dalla scossa di questo cambiamento di paradigma per quello che riguarda la nostra leadership. Credo che sia più che giusto affrontare questa questione oggi qui a Roma. non dovrebbe rappresentare una sorpresa il fatto che ci sia stato questo importante flusso di partecipazione. Come ti dicevo, aspettavamo un numero di persone relativamente ridotto. Invece abbiamo ricevuto segnali che ci dicevano che le persone erano interessate, volevano venire e quindi dalle trentine di persone che avevamo pensato all'inizio alla fine abbiamo avuto 120 persone che sono iscritte a questo evento, il che la dice, secondo me, molto lunga, circa il significato di questo evento. Ovviamente ci sono molte donne, come vediamo tutti qui, perché oltre che dover ridefinire la leadership in questo Paese, che ha un grosso problema di leadership, uno degli aspetti della riprogettazione della leadership è il ruolo che le donne dovranno svolgere, che sono chiamate a svolgere in Italia da questo momento in poi, perché se non ora quanto, ha detto ora, le donne dovranno farsi carico del governo di questo Paese. Non ci sono più scuse per escludere le donne, ma oltre che alle donne voglio anche elencare il numero di organismi presenti qui a parte, gruppi femminili, abbiamo la stampa, abbiamo le persone che sono o appena state elette o persone che hanno appena finito la campagna elettorale, e quindi sono molto interessate a questo argomento, anche loro molto interessate a questo argomento. Abbiamo le ONG, anche le agenzie ONU presenti, abbiamo rappresentanti della presentazione pubblica e anche rappresentanti delle imprese pubbliche, del settore pubblico, del settore privato, delle aziende private, gruppi di social media e anche reti religiose. Se voglio sottolineare la presenza delle sorelle domenicane, anche loro sono a rete, per loro è stato importante essere qui oggi. Si tratterà di una riunione molto informale, ma anche molto viva, vivace, molta discussione, partiremo noi, però noi vorremmo costruire sulla base di quello che direte voi, con interventi molto brevi, quindi domande, commenti, condivisioni di esperienze, a ogni persona, a ogni oratore daremo ogni tre minuti, non più di tre minuti, perché vogliamo veramente che lo scambio diventi un dialogo, un dibattito dinamico, come è stato già detto prima. Parecchie persone sono collegate in streaming per seguire questo incontro. Questo è quanto per il momento. Grazie mille. Grazie Nicoletta, siamo veramente entusiasti di avere la sua organizzazione, se non ora quando, e la Social Innovation Society come nostro sponsor, grazie anche agli altri gruppi che sono uniti a noi oggi. Abbiamo la fortuna di avere un esperto che conosce tutti gli argomenti di cui parleremo. Elisabeth Linder, che è la specialista per la politica e il governo di Facebook per la regione Europa, Medio Oriente e Africa, si è unita a Facebook nel 2008. Il suo compito, il suo lavoro è quello di fornire consigli e consulenza ai rappresentanti, ai amministratori pubblici di governo, i think tank, le ONG, circa l'interrelazione fra i social media, in questo caso Facebook, e il ventunesimo secolo. Lavora a stretto contatto di gomito con i suoi interlocutori per capire meglio la tecnologia di Facebook, l'identificare come Facebook rientri in quello che è la domanda globale di maggiore trasparenza e apertura nel settore pubblico, esamine anche le tendenze della società che profondamente influenzano il modo in cui l'opinione pubblica interagisce con i suoi leader. Queste sono questioni che porteranno, secondo me, ad un scambio molto produttivo. Senza ulteriore indugio, ho il piacere di presentarvi Elisabeth Linder. Grazie mille. Devo ammettere che le 130 persone partecipano alla tavola rotonda. Forse è il nuovo modo di procedere. È un veramente piacere vedere tutte queste persone raccolte qui per parlare di questo argomento e sentire quelle che sono le vostre idee su questo stesso argomento. La presentazione di quello che faccio a Facebook è stata quanto ampia. Non ho bisogno quindi di aggiungere molto. Nel mio lavoro presso la Facebook mi occupo di più di 100 paesi. Quindi potete immaginare, non posso approfondire la conoscenza di un paese specifico, ma ho uno sguardo d'insieme dell'Europa, il Medio Oriente e l'Africa per cercare di capire come i cittadini si collegano con i loro politici e i leader di governo. Cosa succede in questa regione? Quali sono le nostre aspettative, le nostre richieste? Stanno cambiando queste rispetto ai nostri leader in conseguenza del mezzo di comunicazione che utilizziamo? Mi sono trasferita dalla California a Londra due anni fa nel 2011 per poter costruire questo ruolo. È tutto partito con una visione che Facebook aveva bisogno di un collegamento, qualcuno disponibile per fornire un po' di introspezione, di orientamento, consigli ai politici, ai ministri. A volte anche i leader della società civile, gli attivisti della società civile in tutto il Medio Oriente e in Africa. E questo è quello che ho fatto sin da loro. Ad un tasso crescente l'anno scorso, ho passato il 90% del mio tempo per strada, potete immaginare, quando ho dovuto rinnovare il visto per la Gran Bretagna qualche settimana fa, è stato bello di non avere il passaforto, di poter quindi stare fermo qualche giorno. Quello che mi ha portato a Roma in questa settimana in particolare è stato non tanto il John Kerry o il Papa, ma qualche mese fa, l'anno scorso, anzi, il Ministero degli Affari Esteri ha lanciato il suo evento Donne in diplomazia, partito su iniziativa di Hillary Clinton per incoraggiare le donne a intraprendere la carriera diplomatica. L'evento dello scorso anno è stata una riunione incredibile di persone e soltanto ieri il Ministero ha ospitato la prima scuola invernale progettata per donne provenienti dal Medio Oriente e per l'Africa del Nord, dell'Africa del Nord per parlare di diplomazia, di leadership e tutta una serie di questioni. Mi sarebbe piaciuto partecipare al corso, ma sono stata comunque parimenti felice di essere stata lì per un qualche ora con loro parlando della comunicazione, dell'utilizzo di Facebook, anche con i rappresentanti politici. Ma quando si tratta di stabilire quello che è lo scenario e nell'ambito del quale rientra Facebook, io vedo Facebook e la comunicazione pubblica con il pubblico, nel settore pubblico, come un grande esperimento nella nostra società odierna. Se Facebook fosse un paese, sulla base della popolazione che comprende, sarebbe il terzo paese più grande al mondo. Più di un miliardo di persone è collegata ad una sola piattaforma e l'82% di queste persone non risiede negli Stati Uniti, risiede al di fuori degli Stati Uniti. Quindi non lasciatevi in un certo senso forviare dal mio accento americano per quello che riguarda la portata globale di Facebook. Questa settimana, proprio questa settimana, sono stata a Salisburgo, in uno dei seminari globali di Salisburgo. Ho parlato ai fotografi che sono attivisti in tutto il mondo e ho guardato con maggiore attenzione al ruolo svolto dalla fotografia sulle pagine, profili Facebook dei politici e dei funzionari governi e ho scoperto che ci sono delle statistiche, che ci sono 300 milioni di fotografie caricate su Facebook ogni giorno. Questo volume e questo collegamento è un qualcosa di incredibile, ma credo che quello che faccia in realtà ci spinga a pensare a nuovi modi di interagire con i nostri leader. Se io dovessi fare un passo indietro e pensare, riflettere, quali sono le tendenze principali, quali sono gli elementi trainanti principali alla base di ciò che significa essere un rappresentante pubblico su Facebook, io sottolineerei tre temi principali e questi sarebbero la trasparenza, l'accesso e l'autenticità. veramente, veramente, quando guardo un profilo Facebook che ha a che vedere con il campo politico o di governo o si cerca di dare accesso alle persone ad un qualcosa a cui non hanno accesso prima o magari, se abbiamo seguito questa settimana le foto dell'ambasciata americana, della visita di John Kerry. Si vedono sale come questi, interni, persone, luoghi che abitualmente non si vedono e magari uno deve fare affidamento sulla stampa. Invece oggi è un qualcosa che viene fornita costantemente. Poi si vede più autenticità nei politici e nella leadership perché ci si rende conto che in questi spazi bisogna essere reali perché le persone si aspettano uno scambio con voi, una conversazione, quindi uno stile, un tono su molte pagine dei governi sono diversi, non si può generalizzare, ma su molte di questi profili, queste pagine si vede che si spinge verso una voce autentica e poi ovviamente la trasparenza. Alcuni dei post favoriti, dei politici e dei funzionari di governi hanno a che vedere per esempio col condividere il programma della giornata. Oggi comincio con questa riunione, poi vado a colazione con questa persona e andrò a questo ricevimento. A quanto è interessante perché noi queste persone le leggiamo oppure noi affidiamo loro la leadership del nostro Paese. A condizione di sapere è affascinante sentire quello che fanno, questo elemento di trasparenza che stiamo inserendo e costruendo nel processo politico e quando dico noi, intendo dire noi cittadini e non come dipendenti rappresentanti da Facebook, perché questa non è una cosa che è guidata da Facebook come società della tecnologia, in quanto tale ha forse incoraggiato una maggiore apertura, una maggiore trasparenza, ma si tratta di un qualcosa effettivamente che io vedo spinto dal basso verso l'alto, sono le persone che richiedono qualcosa di diverso dal loro leader, esigono qualcosa di diverso da coloro che li rappresentano. E questo mi porta ovviamente a uno dei temi dell'incontro di oggi, che è uno sguardo più da vicino alla leadership. Cosa significa tutto ciò per coloro tra di noi che occupano posizioni di leadership? Cosa significa tutto ciò per i nostri rappresentanti politici? Credo che uno degli elementi chiavi interessanti da osservare è il ruolo che le conversazioni svolgono nella leadership del XXI secolo. Se dovessimo girare macchina per Roma andando a guardare le statue dei grandi leader politici della civiltà occidentale, non necessariamente andremo a guardare la statua e dicendo magari scommetto che erano dei grandi, erano bravissimi nella conversazione, forse erano grandi autori, grandi pensatori, grandi filosofi, forse grandi scrittori, magari erano famosi per una voce molto possente, magari erano noti perché erano in grado di raccontare una buona storia, per esempio quelli che hanno visto il film su Lincoln, ma tutta una serie di caratteristiche che nel corso della storia abbiamo assegnato, abbiamo ascritto ai nostri leader, ma abbiamo mai messo la conversazione in prima linea, al primo posto? Oggi con questo tipo di tecnologia, oggi la conversazione è cruciale, fondamentale per essere un leader efficace. Noi chiediamo ai nostri leader di dirci fateci una domanda, fateci una domanda su Facebook, su Twitter, su YouTube, non importa quale sia il mezzo, ma chiedici cosa pensiamo e noi risponderemo. Dacci un'opportunità di dare i nostri commenti, rispondici, dacci l'opportunità di avere voce in questo dibattito. Pensiamo per esempio ai recenti tipi di dibattito tipo Town Hall, dove i nostri politici hanno questo confronto, questo scambio, sia esso su una piattaforma tipo social media o uno schermo televisivo. Oggi ci aspettiamo dai nostri politici che siano dei conversatori e a volte mi chiedo, e questo semplicemente è un'ipotesi che faccio, che formulo, forse questa è un'opportunità per alcune leader donne assumere un ruolo e esplorare questo territorio inesplorato. Nella mia esperienza i leader donne sono molto brave nell'ascoltare e nel porre domande. Questo ovviamente è una generalizzazione di massima, ma mi auguro che ci sia veramente spazio per le donne leader in cui dicono ok questa è la norma, ma noi cerchiamo di svolgere un ruolo di avanguardia, quindi lo stile della conversazione secondo me è molto importante. Ho parlato di autenticità prima, la capacità di essere reali su queste piattaforme è un qualcosa secondo me che è particolarmente importante. Quando pensiamo alla fotografia, in questo momento dopo aver trascorso quattro giorni con i fotografi attivisti, ovviamente la fotografia ce l'ho ancora molto fresca mente, una delle cose che è venuta fuori, io sono una esterna perché non sono una fotografa ma osservo le immagini, uno dei temi che è venuto fuori ricorrentemente è che le persone oggi si fidano di un'immagine un po' sgranata che non è fatta da professionisti, piuttosto che la immagine professionale ben organizzata perché magari questa immagine è stata fatta da un altro cittadino, magari di una persona che ha un vero accesso alla persona. Quindi c'è un elemento, se si riesce a dimostrare di essere una persona reale, vera, è un essere umano, ovvero si può magari far vedere che siano delle qualità di leadership migliori di quanto non si possa fare magari essendo tutto costruito. Per esempio le pagine politiche costruite su Facebook, quello che spesso riscontriamo è fasi su quello che c'è dietro le quinto, quello ero io un momento fa seduta sulla sedia mentre magari mi bevevo un goccio d'acqua. È questo che il pubblico vuole vedere, piuttosto che queste immagini dove sono in piedi tra un podio e faccio questo discorso più formale. Quello che ci rende reali e accessibili, ancora una volta, l'accesso, ritorniamo a questo tema dell'accesso. Ieri sera ho partecipato ad un dibattito sul software power alla Royal United Services Institute e abbiamo esaminato qual è il valore che le nazioni attribuiscono al soft power. Io credo che il soft power abbia un ruolo molto importante su piattaforme tipo Facebook. Alcune volte si tratta di un soft power serio nel senso che le immagini condividi persone, non è che si sta spingendo le persone a chiedere, a credere in quello che voi volete ma a volte è un approccio più leggero. Il significato lo capisci, la battuta la capisci. Capisci quello di cui parlano le persone sulla pagina Facebook per chiunque. L'anno scorso si ricordi i testi del Hillary meme con il Blackberry e gli occhiari scuri. Molte persone hanno botizzato quale messaggio stesse mandando questa immagine molto potente del segretario Clinton. Devo ammettere quattro anni o cinque anni fa, quando ero a YouTube e lavoravo sulla possibilità di raggiungere politicamente le persone, le persone avevano paura del mezzo perché nessuno sapeva come reagire. Lo riconoscete o meno? In un certo senso le persone si sentivano spiazzate e dicevano cosa vengo a fare? Come sapevano come rispondere a questo meme? Perché era un qualcosa di completamente nuovo. Ma nel 2012, nel 2013 e più avanti, verso il XXI secolo, quello a cui abbiamo assistito il Dipartimento di Stato ha invitato questi ragazzi a fare un vero test e a mandare un testo vero attraverso il suo telefono. Quindi la capacità di essere reale si estende anche alle interazioni umane che abbiamo con i politici, anche se non siamo magari nella loro stessa stanza. In una certa misura capiamo o ci rendiamo conto che capiscono anche la battuta allo scherzo e anche abbandonare un po' il controllo è un aspetto molto affascinante del mondo dei social media. Se guardiamo con attenzione un profilo Facebook e vorrei esprimere le mie congratulazioni ai politici di recente elezione che avete, il vostro profilo Facebook ci state lavorando. Sapete che in una certa maniera voi mettete il vostro post su Facebook e ovviamente i commenti non li potete spegnere. I commenti arrivano a quel post. La possibilità di consentire alle persone di partecipare alla conversazione sulla vostra stessa pagina è un qualcosa che richiede l'abbandono di un pochino del controllo e a volte anche voi partecipate a questa conversazione laddove lo ritenete giusto. A volte non partecipate, le persone semplicemente scambiano i commenti. Facilitate questo scambio di dialogo e ci si augura che si coinvolga, che convergiate anche qualcuno dei vostri collaboratori per osservare, notare cosa può essere il significato di quei commenti cercando di capire cosa pensa la gente. Perché questo poi vi riporta al meccanismo del policy making. Se c'è una cosa che mi frustra circa il modo in cui le pagine, i profili politici funzionano oggi è che vengono visti semplicemente come un canale di comunicazione. Ma io credo che sia molto, ma molto di più, siano molto, molto di più. In realtà un po' il sondaggio in tempo reale circa quello che la gente pensa, quello che prova, come reagisce, risponde a voi. Questo vi può veramente aiutare a informare la policy making. Ma tutto questo richiede un certo elemento per consentire alle persone di avere queste conversazioni facendo un piccolo passo indietro e poi lasciando le cose un po' libere. La creatività è un'altra cosa. Non c'è un modello che vi dica come si può creare un buon profilo politico. Potete guardare sempre in altre parti del mondo. Io questo lo faccio nel mio lavoro quando incontro politici e funzionari di governo che mi chiedono cosa succede nel mondo, a chi ci possiamo rivolgere. Ci sono delle cose fantastiche che è in corso. Ma la domanda è che dobbiamo in un certo senso anche andare a esplorare nuovi territori. Io ho cominciato nella comunicazione presso la Facebook e in Global Communications, anche presso YouTube in realtà. Scrivere un comunicato stampa nel campo della comunicazione è un modello che segui. A fatto che tu conosca le regole del gioco, sai come iniziare, chiudere e scrivere un titolo che possa funzionare ce l'hai. Ma ovviamente i feed su Facebook e su Twitter e i video su YouTube non seguono un modello. Anzi è molto meglio se non ti tieni ad un certo modello. Questo richiede una qualche creatività non soltanto da voi come leader ma anche dal vostro modo di ispirare e incoraggiare i vostri collaboratori a prendersi qualche licenza artistica a essere un po' creative. È interessante osservare la cosa che si dispiega in questa maniera, se non altro dal mio punto di viso, quando osservo quello che le persone fanno, le loro pagine Facebook. Ma capisco che a volte questa cosa possa fare un po' paura perché le cose vanno storte, vengono fatti degli errori, c'è un errore di giudizio, a volte magari le persone non sono pronte a qualcosa di più leggero, più pesante. È il bello di tutto ciò che è una cosa che va ad una tale velocità e così dinamica. Un errore di giudizio per il quale ci si scusa consente di procedere e procede in maniera molto veloce. Quindi la capacità di adattarsi a questo ambiente è un qualcosa che i nostri leader, dal mio punto di vista, stanno cercando di afferrare, capire. Sono molti gli esempi e mi auro che durante il dibattito e nella sessione di domande e risposte potremo scendere in qualche dettaglio per quello che riguarda gli esempi. E poi per chiudere, questo va un po' di pari passo con la datablità, la natura globale di tutto ciò, noi chiediamo ai nostri leader, a volte anche a livello proprio molto locale, di essere internazionalisti perché la natura globale non si spegne, la natura globale della comunicazione del XX secolo non si spegne. Ovviamente ci sono determinate cose che si possono fare, si può rivolgere, si può indirizzare un profilo Facebook in una determinata lingua in maniera tale da rivolgersi a un determinato tipo di pubblico, ma in fin dei conti, vista la natura della condivisione, vista la natura del feed, delle notizie, gli amici italiani possono condividere questi post sulle loro bacheche, nei loro messaggi, diffonderli e tutto questo diventa quindi molto internazionale ed è incredibile dal mio punto di vista cercare di capire a volte come questo spinga i nostri leader in direzioni diverse perché loro stanno osservando il fatto che ci sono persone da altre città o da altri paesi che sono per loro fonte di ispirazione o fanno loro domande e chiedono loro di agire in maniera diversa. La polizia stradale in India è un esempio divertente di questa cosa. La polizia stradale di Delhi è andata su Facebook per andare a esaminare i rapporti sul traffico in una delle città più congestionate del mondo. Cosa hanno fatto? Hanno esaminato il successo di questa cosa? Hanno cominciato a chiedere forse dovremmo fare anche nella nostra città, per cui se adesso andate in qualsiasi principale città dell'India trovate queste pagine Facebook della polizia stradale perché l'idea si è diffusa attraverso Internet. Le idee ci ispirano e dobbiamo capire come le persone trovano queste idee e perché le portano a noi. Esiste una cosa che si può chiamare isolamento nel XXI secolo e se c'è è nelle comunità che non sono ben collegate, connesse, comunità che magari non hanno accesso a Internet o a tecnologia cellulare e mobile. vi posso garantire alcune società di Internet e tecnologia stanno lavorando a questo per cercare di capire e vedere come qualsiasi cittadino possa essere parte di questo dibattito. quindi dal meme, dalla creatività, alla natura globale, internazionale, tutto qua, all'autenticità, all'accesso e alla trasparenza. E poi argomenterei che la cosa più importante è l'aspetto conversazione. cercare di vedere il modo in cui la tecnologia e come i cittadini interagiscono, questa tecnologia ci sta spingendo verso nuovi settori, verso nuovi campi e non soltanto come i nostri leader reagiscono, ma come noi chiediamo loro di reagire tutto ciò. È quello che noi ci aspettiamo che i nostri leader facciano. Io credo che sia uno di quei temi che non necessariamente appartiene un particolare gruppo di età, non riguarda soltanto i giovani, ma ho visto alcuni oltreottantenni della House of Lords seguire queste cose in maniera molto corretta. Non è detto che i giovani l'afferrino sempre in maniera giusta. Questo comporterà un cambiamento considerevole e sicuramente ci consentirà di essere più autentici e reali di quanto non siamo mai stati in passato. Io credo che questo possa avere, in un certo senso, gettato le basi per un dibattito. Desidero ascoltare le vostre idee di quello che succede in Italia. Il fatto che mi occupo di tantissimi paesi non mi consente di dedicare e trascorre tempo a sufficienza in ciascuno di esse, ma sono ansiosa e desiderosa di ascoltare le vostre osservazioni e i vostri commenti anche su questo argomento. Grazie mille. Parlo dal podio. Grazie per l'Elisabetta. Parliamo tra l'italiano e l'anglese, quindi è facile. Devo dire che oggi abbiamo avuto dei grossi spunti. Abbiamo anche una traduzione in simultaneo, per cui facciamo capire un attimino anche l'italiano ad Elisabetta, perché visto che la connettività, la connessione, ma soprattutto lo style e il linguaggio è importante, creiamo una sinergia tra l'italiano e l'inglese. Devo dire un ringraziamento fortissimo all'ambasciata, perché quando ci ha dato la possibilità di creare questo evento era esattamente in linea con il concetto dell'innovazione sociale che fa parte del nostro motore come Sysam, è partito proprio dal fatto di una grandissima riflessione su cosa stava avvenendo nella nostra società. Quindi come la tecnologia e come i media in qualche modo stavano cambiando il concetto di cittadinanza, ma stavano cambiando il concetto di essere società. Per cui ragionando con amici, ma con imprenditori, con altre associazioni, ci siamo posti la questione di cosa stava succedendo da un lato e soprattutto di che tipo di relazioni si stavano attuando velocemente rispetto anche a quelle che potevano essere delle leggi, delle policy, piuttosto che un'organizzazione sociale che andava leggermente più a rilento rispetto a quello che è un mondo in movimento. Per cui ci siamo domandati in maniera molto attenta, ma questo significa che c'è una società che si sta innovando e a questo punto chi sono i social innovator? E quanto la tecnologia a questo punto può in qualche modo essere il motore di questo cambiamento? Perché effettivamente stiamo parlando di strumenti a nostra disposizione, però effettivamente quando utilizziamo questo tipo di strumenti non ci rendiamo conto molte volte che il nostro modello di vita, le nostre richieste, il nostro anche stile di leadership a quel punto ha necessità diverse. Per cui cambia, come ci diceva effettivamente Elisabeth, il concetto di leadership. Chi sono i leader di domani? Ma che concetto di leadership a quel punto abbiamo noi in testa come cittadini, ma effettivamente possiamo anche essere noi dei leader, nel senso che domani mattina possiamo partecipare noi veramente a questo cambiamento anche grazie alla tecnologia? Per cui grazie ad Elisabeth perché ci sono tantissimi spunti nel suo speech e vorrei farle almeno 100 domande, però a questo punto io passo invece il microfono alle colleghe e ai colleghi che in questo momento sono intervenuti, perché vi farebbe piacere ascoltare da voi i vostri commenti e le vostre riflessioni. E creiamo magari questo barcamp interattivo in modo tale che c'è veramente una connessione tra l'Italia e il resto del mondo a questo punto, visto che abbiamo qui l'onore di avere Elisabeth che ha veramente nelle sue mani una grandissima esperienza e ci può essere non solo di aiuto nelle best practice, ma appunto nelle nostre condivisioni rispetto allo status quo di questo momento. Io sarò inflessibile, tre minuti a testa, per cui sono anche qui a controllare i timing. Chi rompe il ghiaccio? Se ci presentiamo anche con... non so se ci sono i microfoni... Mi presento, sono Fedora Quattrocchi, responsabile dell'unità funzionale geochimica dei fluidi, stoccaggio geologico e geotermia dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e insegno a Tor Vergara Ingegneria un corso che si chiama Trasporto e confinamento di CO2. Nella comunicazione sono opinionista su blitz quotidiano, quotidiano energia, rinnovabili, eccetera. Quindi energia. Allora, purtroppo devo dire che tutta questa vicenda dei social network è estremamente negativa per quanto riguarda la diffusione delle corrette informazioni scientifiche al pubblico. Quindi porta al governo, purtroppo, persone assolutamente disinformate e imberbi e noi scienziati non ce la sentiamo più di fare comunicazione e rischiare sulla nostra pelle anche sentenze, eccetera. Quindi attenzione a queste forme di comunicazione. Io per prima sono un Twitter, quindi FedQuattrocchi mi trovate tutti i giorni e giro per l'Italia a comunicare che stoccaggi di gas, stoccaggi di CO2, geotermia, eccetera, non sono, o il fracking, andate a vedere ProMais, Land, vi rendete conto del problema, non sono questi mostri tremendi, anche perché se non facciamo il nucleare non possiamo fare fracking, quindi non facciamo le centrali a gas, se non facciamo lo stoccaggio di CO2 non facciamo le centrali a carbone, purtroppo, anche se facciamo le smart grid con le rinnovabili, abbiamo bisogno di materie prime, quindi dobbiamo andare in Africa o in Asia. La domanda è come pensate di interagire questo tipo di situazioni, cioè produzione energetica a bassa quantità di CO2 di vario tipo, quindi carbone, nucleare, eccetera, con le social network in cui parlano tutti senza competenze. Grazie. Eccoci, stavo cercando una luce verde, adesso lo so, capite? Penso che il concetto che ha sollevato è uno veramente molto interessante, ovvero l'idea di quello che si fa con le voci o idee che non sono fondate su ricerche concrete o una ricerca accademica che vanno in giro su internet. e penso che ci sono due aspetti a riguardo. La prima cosa, la cosa più importante, è che abbiamo bisogno di incoraggiare tutti a dire la propria in questa conversazione, altrimenti se non c'è informazione, c'è la diffusione di informazione non corretta. Io ho incontrato un politico che mi ha contattato non tanto tempo fa e mi ha chiesto di eliminare delle pagine Facebook false che erano state create a posto per lei e questo non è un problema perché queste pagine già violano le nostre norme e l'autenticità è molto importante, impersonare qualcun altro è qualcosa che non è permesso in base ai nostri condizioni e termini. Ma io ho chiesto, mi può mandare il leak alla sua pagina ufficiale Facebook? E lei mi ha risposto, non ho una pagina Facebook. E questo è già un problema perché noi dobbiamo essere certi che se dobbiamo cercare di ben rappresentare dei punti di vista che siano autentici, veri, questi punti di vista devono essere facilmente accessibili così come lo sono punti di vista falsi o che non sono basati sulla ricerca. Quindi questa penso sia la cosa più importante. Le nostre università, i nostri musei, gli istituti di ricerca, i nostri studiosi, tutti devono avere voce in questo dibattito. Detto ciò, penso che l'internet opera come uno specchio che riflette il mondo reale, ovvero non si crea mai una piattaforma che riguarda solo la verità. Ci sarà sempre una divergenza di opinioni, opinioni diverse, persone che non sono ben informati su alcune tematiche come dovrebbero. Perché l'internet non ha un sistema di check and balance in termini di libertà di parlare e molte persone magari possono dar credito a delle voci che sono false. Quindi questo mi riporto al punto. È importante avere delle voci, le voci dei ricercatori, dei scienziati che partecipano anche al dibattito pubblico così come avviene sul web. Grazie. Grazie, sono Revolta Grossi, sono il direttore dei fondi strutturali e il Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'inizio dello sviluppo economico. Grazie all'ambasciata per l'opportunità di averla incontrata, credo di incontrare il responsabile delle idee, sui rapporti istituzionali, sui rapporti istituzionali, due domande su quello che ha detto. Brevamente anzi un'innovazione che diciamo al Ministero dello sviluppo economico stiamo contando di essere in atto e che parte dall'idea di essere in rete, però una rete diversa, quindi diciamo una rete nel senso un po' più classico di un tavolo dove ci sono audizioni, dove ci sono tutti gli attori coinvolti, non solamente con gli istituzionali ma anche il partenariato rilevante che è uno dei modi forse con cui il social working network ci può aiutare, diciamo che ci può aiutare a raggiungere. L'idea è quella di mettere in piedi un osservatorio sulla componente di genere di tutte le politiche di competenza del Ministero dello sviluppo economico. La domanda è questa, credo ci sia una differenza fra utilizzare il network per in qualche modo da parte dei leader politici per capire il polso del consenso e credo che in questo ci sia anche una sfida democratica forte perché c'è la possibilità di prendere la parola finalmente da parte dei cittadini. Però credo che ci sia, e sono due le sfide alla democrazia, questa e l'altra è che in un mondo in cui le multinazionali hanno un po' superato i confini delle legislazioni nazionali, in realtà diciamo c'è un vuoto di democrazia, cioè che molte leggi non si applicano se non in un luogo circoscritto con confini che non è più il luogo vero né dell'economia né degli scambi di opinioni. E credo che in questo effettivamente anche il social network possa essere utile. Dall'altra parte però c'è la sfida della complessità e io credo che i social network non riescano a cogliere la sfida della complessità. e su questo mi piacerebbe sentire cosa penso. Prima chiederei anche agli altri panelist di magari rispondere anche loro alle domande. Penso che la tematica della complessità è veramente una tematica molto interessante e a volte i nostri politici e i nostri leader hanno la tendenza a semplificare i debattiti e le idee in modo eccessivo perché essere generalisti rende ovviamente la tematica più accessibile a tutti e ovviamente non voglio stare qui a parlare tutti gli aspetti più profondi dei nostri rispettivi lavori e noi vogliamo generalizzare in modo da poter avviare un discorso che può essere... su cui molte persone possono identificarsi ma qui si parla troppo di volume e di numeri a mio avviso. Non posso dirvi quante volte i politici o i leader di governo mi contattano e dicono come posso fare sì che più persone cliccano su mi piace come farsi in modo che le persone mettano mi piace sui miei commenti in questo modo è un modo per non capire il punto forse le elezioni sono diverse perché volete effettivamente che le persone vi votano ma nel governo, nelle questioni giornaliere, l'ossessione legata al numero di mi piace è che qualvolte perdiamo l'opportunità di coinvolgere un numero più piccolo di persone che possono magari partecipare a approfondire un dibattito, un focus group che potrebbe veramente approfondire gli aspetti relativi all'economia sarà molto più produttivo per i nostri politici piuttosto che con dei commenti generali sulle opinioni in materia dell'economia e magari avere 100 mi piace e qui stiamo spostando l'attenzione dai numeri al coinvolgimento effettivo qual è il punto per voi come politici di essere presenti su Facebook di avere tanti mi piace? Benissimo avere una conversazione produttiva approfondita con persone con cui non avete mai avuto dei colloqui si potrebbe trattare di un numero più ristretto di persone ma potrebbe permettervi di raggiungere meglio i vostri obiettivi noi utilizziamo la metrica degli utenti attivi mensili una persona che si è iscritta a Facebook e non l'ha usato non è una buona indicazione di qualcuno che è coinvolto e interessato alla nostra piattaforma noi siamo interessati a misurare le persone che tornano sulla nostra piattaforma perché questo è un modo per misurare il successo della nostra piattaforma quindi l'enfasi sui le cifre e i numeri può portare a una semplificazione eccessiva del dibattito spero che mano a mano che questo diventa più sofisticato ci saranno maggiori sfumature, ci saranno voci a più livello ci sarà la pagina generale come leader, ministeri e oltre a questo potrete anche avere vari gruppi dei focus group con delle persone dove è possibile approfondire le varie tematiche ma parlando degli attori istituzionali ha aperto un altro aspetto penso che ci sia motivo per ritenere che se si apre questo dialogo per avere persone diverse che sono responsabili per contattare altre persone allora il dialogo può andare oltre, può essere ancora più approfondito e penso che ci siano vari esempi di questo nel modo politico ma forse ce ne potrebbero essere di più dove ci sono persone che allora se voi siete interessati a questo allora qui questo è il modo per voi per collegarsi con noi e approfondire il dibattito la tecnologia può aiutarci la caratteristica per esempio la possibilità di inviare un messaggio diretto piuttosto che lasciare un commento pubblico questa è una cosa importante perché più si va in profondità forse le persone non vogliono che tutto quello che scrivono che venga pubblicato magari hanno fatto un pochino di ricerca e non vogliono pubblicarlo su una pagina quindi permettere alle persone di inviare delle messaggi alla pagina questo è un altro aspetto un altro modo per fare questo è incontrare le persone e vedere dove si trovano spero che questo sia utile mi augurerà che ce ne fosse anche di più ma penso che il dibattito verrà sofisticato penso che andremo sempre di più in questa direzione abbiamo dalla rete una domanda quindi dall'esterno una domanda direttamente che gliela faccio subito una collega le chiede come valuta il contributo di Facebook alle rivolte? come azienda, come società dobbiamo essere attenti a come valutiamo le rivolte perché passo molto tempo in molti paesi diversi ma io non provengo da questi posti non è che ci ho vissuto non ne so abbastanza per capire cosa ha spinto le persone a scendere in strada e a insorgere ma dalle persone con cui ho parlato in alcuni paesi dove c'è stata una rivoluzione penso che sia ben chiaro che la comunicazione nel ventunesimo secolo e la sua natura in tempo reale la sua capacità di collegare chiunque ovunque questa persona si trova è veramente molto importante detto ciò sento che molto il ruolo delle persone che sono tra classi non collegati che non hanno accesso a internet e quelli che hanno un iperaccesso a internet sono sempre sui siti queste persone hanno un ruolo critico nel modo in cui avviene la conversazione politica quindi io posso essere in contatto con quello che succede a Facebook ma magari posso svolgere un ruolo molto specifico nel collegare le persone che non sono collegate a internet condividendo con loro quello che sento proprio sul terreno e quando sento queste storie nei paesi che sono state colpite da questo non posso fare a meno di pensare a riflettere ho iniziato la mia ricerca all'università concettandomi più sugli aspetti storici e qui abbiamo studiato gli albori della stampa abbiamo parlato delle biblioteche ma c'erano i coffee house dove magari c'erano uno o due coppie del giornale e tutti entravano per leggere e poi condividevano le idee e mi sembra che qualsiasi nuova forma di tecnologia per le comunicazioni non tutti hanno la tecnologia ma molte persone conoscono qualcuno che ce l'ha e le idee si possono quindi diffondere in questo modo quindi penso sia stato effettivamente essenziale e critico il ruolo che Facebook ha svolto nel collegare questi posti e dare voce a queste situazioni ma sono esitante per parlare per conto dalle persone che sono state coinvolte perché penso che siano spette a loro condividere le loro storie grazie grazie moltissimo agli organizzatori e all'ambasciata per questo evento che devo dire dal mio punto di vista vi dirò poi adesso di cosa mi occupo e cosa faccio ha una tempistica assolutamente straordinaria dunque io sono Monica Marcucci e in questo momento sono presidente dell'associazione donne della Banca d'Italia quindi mi occupo di tematiche di genere ma di tematiche di genere molto orientate alla realtà aziendale in cui noi viviamo e soprattutto le tematiche di genere che riguardano l'inserimento della vita lavorativa delle donne e la valorizzazione dei talenti femminini in generale noi siamo un'associazione relativamente giovane ci siamo costituite nel 2007 e dopo una fase una prima fase in cui avevamo come esigenza quella di ritagliarci un ruolo di costruire un'identità di trovare una forma di legittimazione e quindi abbiamo cercato di far questo anche attraverso la comunicazione però utilizzando dei canali ancora molto tradizionali ecco l'unica cosa tecnologica che abbiamo è un sito web nulla di più e ci siamo resi conto però in questa fase che sta iniziando adesso che era il momento dopo aver riscosso dei risultati importanti proprio in termini di legittimazione di conoscenza da parte del pubblico di allargamento della base sociale che dovevamo investire molto di più proprio in questo perché abbiamo capito che era arrivato il momento della svolta quindi di trovare maggiori consensi e di chiarire soprattutto ai potenziali interessati alla nostra attività quale potesse essere il nostro ruolo ora detto questo devo dire mi ha molto colpito il suo riferimento al ruolo dei social network come strumento di conversazione perché quello che abbiamo sentito parlando con le nostre soci o con potenziali soci che non lo sono ancora diventate è che manca il momento dell'ascolto quindi in un messaggio unilaterale senza possibilità di interagire effettivamente anche capire il tipo di contributo che noi come associazione possiamo dare può essere limitato se non abbiamo una tecnica o uno strumento per registrare quelli che sono i bisogni che vengono dal basso e quindi abbiamo assolutamente capito che dobbiamo essere presenti sui social network abbiamo anche l'idea di avere una presenza non limitata alla rete aziendale perché questa potrebbe essere la prima considerazione ovvia siamo una realtà che si occupa non di tematiche di genere a 360 gradi abbiamo un focus molto preciso parliamo alla nostra rete interna in realtà abbiamo anche capito che forse potrebbe essere troppo poco questo perché abbiamo bisogno anche di interagire con altre associazioni abbiamo bisogno di una presenza più estesa detto questo la domanda che vorrei farle è come si fa però in termini di risorse di creazione di linguaggi creazione di messaggi che davvero arrivino a colpire l'obiettivo che abbiamo in mente ci rendiamo conto che non è facile siamo associazioni che molti di noi si basano sostanzialmente sulla buona volontà degli individui vogliamo questa presenza sui social network però sappiamo anche che non c'è nulla di peggio che una presenza un account silente o distratto discontinuo quindi è peggio un account che alla fine racconta che non ci siamo in realtà o che non abbiamo nulla da dire ma come si risolve il problema quando non si hanno risorse immaginiamo che possano esserci dei modelli e forse questa occasione può essere un momento per cominciare a scambiare esperienze da questo punto di vista perché noi davvero non abbiamo una risposta ma ne abbiamo bisogno c'è la collega che cosiddiamo le domande buonasera mi presento io sono Roberta Caviglia dell'associazione noi donne di Telecom Italia noi siamo ancora più giovani dell'associazione delle donne della banca d'Italia perché ci siamo costituite nel giugno del 2012 ora siamo donne tecnologiche perché siamo nella società che fornisce gli strumenti tecnologici per accedere a queste nuove modalità di comunicazione e anche noi abbiamo dei grossi problemi sui contenuti noi abbiamo iniziato costituendo un gruppo chiuso su Facebook siamo ad oggi 107 dirigenti e quadri perché la nostra associazione per adesso è limitata al management femminile e di queste 107 associate ce ne sono 63 iscritte al gruppo Facebook e facciamo un'opera continua con mailing agli incontri per cercare di arrivare ad avere almeno tutte le associate sul gruppo il gruppo è anche abbastanza silente cioè perché poi alla fine c'è la paura di comunicare proviamo a lanciare temi ma abbiamo anche noi proprio delle difficoltà ad acquisire il linguaggio di Facebook perché ci siamo accorti poi io ho due account uno che è proprio diciamo l'account mio personale e uno nel gruppo e vedo la diversità e il linguaggio che bisogna acquisire vedo che c'è anche un linguaggio generazionale quindi volevo mettere il carico da 11 sulla questione che aveva posto la collega perché anche per noi questo è un punto cruciale sul quale stiamo cercando delle risposte ok chiudiamo con il giro delle domande grazie io mi chiamo Paola De Rio lavoro alla Consop mi occupo di sorveglianza mercati la Consop è l'equivalente dell'americana Sisi quindi è l'autorità che controlla i mercati finanziari ma sono qui anch'io non in veste Consop ma in veste di segretario dell'associazione donne della Consop come le colleghe d'Italia come anche noi siamo molto giovani ci siamo costituite pochi mesi fa sulla scorta dell'esperienza naturata dalle colleghe della Banca d'Italia e abbiamo raccolto tra le lavoratrici della Consop che sono circa 325 un grande entusiasmo siamo oltre 100 iscritte quindi un terzo delle dipendenti hanno sentito la necessità l'esigenza di condividere la nostra idea stiamo lavorando alla comunicazione ci stiamo lavorando tantissimo forse non siamo del tutto preparate stiamo cercando di pensare a quali possono essere le soluzioni più adatte sicuramente quella di un sito che consenta di diffondere informazioni perché ci siamo rese conto di aver bisogno come lavoratrici in un contesto istituzionale come quello che ci caratterizza di un dentro e di un fuori di un in e di un out c'è bisogno di condividere conoscenze sullo stato dell'essere lavoratrice donna in una realtà come la nostra su quelle che sono le best practices le policy per poter lavorare meglio e arrivare a un contemperamento al work life balance migliore per tutti i dipendenti siamo anche consapevoli che è necessario in questo momento in Italia in particolare partecipare a un dibattito esterno per avere la capacità anche di incidere piano piano di convogliare le nostre energie e riuscire a incidere su quelli che sono cambiamenti anche legislativi in atto ora e nel futuro per fare questo ci stiamo chiedendo quali siano gli strumenti di comunicazione interna ed esterna più efficace quello che però le volevo chiedere è questo molte colleghe hanno il timore che dovendo bilanciare il fatto che nasciamo all'interno di un organo istituzionale l'apertura di una pagina facebook o di un altro social network possa farci correre il rischio di essere in qualche modo strumentalizzate e quindi sotto questo punto di vista ci sono molte paure da vincere dei timori e quindi a questo volevo acquisire la sua opinione alcune risposte ad alcuni dei commenti innanzitutto la prima fila riceve il premio perché abbiamo sentito tre domande prima innanzitutto per quello che riguarda i contenuti quello che è una questione affascinante il fatto che ci si aspetta da voi che bisogna essere interessanti 24 ore al giorno per 7 giorni e settimane tradizionalmente se si chiede a un giornalista di incontrarvi oppure se si realizza una conferenza stampa si suppone che abbiate qualcosa da dire eppure di tanto in tanto anche nelle forme più tradizionali chiunque abbia guardato un fiction politica prima delle social media i briefing presidenziali di tanto in tanto hanno due o tre cose da dire e poi finisce ma mi affascina l'idea che i social media non si fermano anche se voi avete una giornata media in ufficio non fate nulla di particolarmente entusiasmante o accitante quindi che fate come potete alimentare costantemente la macchina credo che una delle cose più importanti che si può fare bisogna essere reali e onesti circa quello che avete in programma quel giorno se una cosa importante per voi va a assicurarvi di aggiornare le persone costantemente ma non avete nulla di veramente importante da dire ne avete tempo di tradurre in un linguaggio una magari foto della giornata una reazione a quello che avete visto per esempio il Parlamento Europeo ha una pagina Facebook di grande successo una di quelle che ha maggiore successo a Bruxelles e credo che sia stato l'agosto scorso forse l'agosto 2011 non mi ricordo se è 2011 o 2012 per circa una settimana hanno postato un'immagine del sole e hanno scritto ce ne andiamo un po' in vacanza torneremo e alla gente è piaciuto perché in fin dei conti avevano poco personale dovevano tradurre tutto in 27 lingue hanno detto non abbiamo le risorse a sufficienza per postare le cose su quella pagina per una settimana ci hanno messo al sole ma ce l'hanno detto il fatto è che sono stati onesti e ce l'hanno detto non è che uno ha aperto la pagina e ha detto che è successo al Parlamento che stanno facendo questa settimana perché vedevano il placeholder che diceva che avevano poco personale e che dovrebbero consentire a tutti di fare le vacanze credo che il più grosso pericolo in cui si cade se non si ha nulla da dire si rimane zitti per un po' sui social media questo è quello che non va affatto perché questo spaventa le persone e le persone le fa interrogare su cosa è successo ho fatto un seminario di formazione con alcuni generali e ufficiali del comando USA Unione Europea Stoccarda in Germania si parlava di come si utilizzano i social media nelle loro iniziative di diplomazia e di comunicazione pubblica uno dei partecipanti a questo training rappresentante del Dipartimento di Stato americano sicuramente i nostri colleghi presenti qui capiscono lui era in Giappone durante il disastro nucleare durante il terremoto e quello che ha detto questo rappresentante il più grosso orrore che abbiamo fatto è che nel momento in cui gli americani si incontravano con i giapponesi e con tutti gli altri paesi per capire quanto dovesse essere grande la zona colpita dall'evento nucleare non sapevamo cosa dire alle persone perché aspettavamo che finissero gli incontri ma mentre andavano in avanti le riunioni e negoziati con tutti gli esperti in retrospettiva quello che avremmo dovuto fare è dire alla gente la riunione è ancora in corso la riunione è ancora in corso la riunione è ancora in corso non abbiamo ancora sentito il nostro ambasciatore e vi faremo sapere perché anche loro non sapevano nessuno sapeva cosa fare non è forse meglio sapere che le persone responsabili della tua sicurezza non sanno cosa fare piuttosto che dimenticarsi di aggiornare la pagina Facebook e di cosa fare soprattutto negli Stati Uniti l'80% degli americani si aspettano la risposta per quello che riguarda le situazioni di emergenza ambientali su social media non è che si fa non si chiama il numero verde si aspetta che social media danno le informazioni quello che cerco di farvi arrivare adesso non mi ricordo quanto è stato ma per un certo periodo non avevamo nulla da dire alle persone e questo ha detto il rappresentante non lo abbiamo fatto siamo stati zitti per un po' perché non sapevamo che fare e questo è un mezzo di comunicazione è così nuovo per cui anche noi ci siamo nervositi non sapevamo cosa fare e io ho osservato perché ovviamente questa è una cosa che è successa più di recente dopo l'uragano Sandy mi dispiace che magari gli esempi sono concentrati sugli Stati Uniti ma ho considerato il fatto che parlo inglese e controllo seguo le notizie più in inglese e la cosa interessante è stato dopo gli eventi a Londra i riot di Londra le persone hanno condiviso l'informazione e si è detto dite alle persone che non date informazioni perché non le avete io credo che queste sono norme pratiche che magari si possono capire a livello di buon sono ma una volta applicate sui media sociali cambiano un pochino e qualcosa può anche far paura l'altro consiglio se avessimo le diapositive magari vi farei vedere come consiglierei ai politici di creare il loro profilo avere sempre una serie di idee che ancora non avete utilizzato di scorta un grande esempio guardate questa stanza questa è una stanza è una sala fantastica e commetto che la maggior parte degli americani non sono sanno che sono qui nella tasca portatevi un paio di foto di questa sala quando non avete nulla di interessante potete postare una foto e dire non è un bellissimo moquette si magari è un po' consumata si potrebbe sostituita ma magari è stata messa nel 1900 e roti un qualcosa di interessante magari che non utilizzate costantemente ma che vi serve a rinfrescare la conversazione oggi tornando al concetto del Parlamento di cui ho parlato prima se andiate a guardare la pagina profilo Facebook del Presidente del Parlamento che ha dei video carini che mostrano quello che lui fa dietro le quinte è una cosa che magari possono essere ripostate fra un mese magari quelle che l'hanno saltata che l'hanno vista ci sono tutta una serie di cose che si possono fare che sono leggere che però possono mantenere vivo l'interesse delle persone ho parlato delle forze di polizia e le forze di polizia sono soprassendentemente brave con i social media quello che hanno deciso di fare penso che si sono resi conto che è un'opportunità di rintrodurre l'umanità nelle nostre forze di polizia nella polizia chiunque come americano diremo noi siamo cresciuti guardando video tipo Mary Poppins in cui c'è il poliziotto locale che conosce tutti e tutti lo conoscono molti di noi che sono cresciuti nelle grandi città non conoscono personalmente i poliziotti ma quello che hanno cominciato a fare hanno introdotto questo concetto perché adesso hanno la tecnologia e la comunicazione per farlo ecco i poliziotti i cani della polizia che vi aiutano quindi hanno aggiunto un elemento di umanità quindi ogni tanto introdurre questo come una serie non è una notizia ma potrebbe essere le immagini di qualcuno una fotografia il nome di qualcuno ma ci aiuta a capire conoscere queste persone e può alimentare fornire dei contenuti interessanti quando non si ha molto da dire di nuovo non ci sono contenuti freschi ovviamente potrei andare avanti e davanti perché questo è uno degli aspetti più difficili ovvero come imparare a usare questi strumenti ma non dovete aver paura di chiedere agli altri quando non sapete cosa dire alle persone chiedete cosa potrebbe essere utile allora salve oggi c'è poco da fare quindi cosa volete sapere da noi cosa possiamo fare di meglio attraverso la nostra pagina come possiamo fornire un servizio migliore siete pronti a chiedere alle persone essere vulnerabili se ottenete delle risposte orribili se a nessuno importa e nessuno risponde beh peggio per loro hanno avuto la possibilità di darvi un feedback dei consigli utili ma in genere quando vedo i commenti ci sono delle idee buone e le persone hanno delle domande o delle interessanti o delle idee buone quando il primo ministro di Singapore ha aperto la sua pagina Facebook ha messo questo post aveva risposto a delle domande molto serie che le persone avevano lasciate nella sua bacheca politica economica e qui abbiamo il rappresentante dell'economia quindi politica economica politica finanziaria fiscale tutte queste cose ma poi apparentemente molte persone gli hanno chiesto cosa gli piaceva mangiare la cena e lui ha risposto perché no è divertente se le persone lo vogliono sapere era un po' come incontrare il tuo professore di scuola allora mangia il primo ministro e se mangia cosa mangia questo può essere interessante cosa fanno ci penso sempre con i polisci quando si va a una cena si mangia sempre il pane con il burro oppure no quindi lui ha risposto è stato molto divertente e quindi ovviamente lui preferiva le pietanze tipiche di Singapore quindi questo permette di avviare di avere questo tono fresco e permettere un contatto con le persone le ultime file prima di passare a qualche altra domanda magari delle colleghe c'è qualcuno che alza la mano rompe il ghiaccio ok ok magari le uniamo insieme così facciamo una domanda microfono per piacere assolutamente il microfono altrimenti non è possibile tradurre la domanda mi spiace microfono microfono il microfono è spento vi prego mi dispiace ma volevo solo essere certa di capirle la sua domanda è passato troppo tempo da quando ho imparato un pochino l'italiano non funziona autorevolezza come è cambiato il concetto di autorevolezza con i social network con l'avvento del social web e la seconda domanda era quali sono i rischi intiti nel fatto che nella selezione della leadership quindi nella selezione degli opinion leader o dei leader politici si privilegino gli aspetti di conversazione di interazione rispetto agli aspetti delle competenze e dei saperi amministrativi politici vogliamo unire la domanda della collega di fondo salve io sono un po' di tavola e sono un po' di informare che non è un po' di problemi che Facebook ha è la creazione di accampati e quindi anche in ambito politico come fa questo sulla possibilità di fidarsi dei contenuti che i politici hanno condiviso se per esempio qualcuno può comprarti un pacchetto di likes o di follower questo diventa problematico quando uno dice io ho 100.000 likes quindi il mio contenuto è davvero buono e poi in vista anche in prospettiva futura di un voto elettronico come pensa Facebook di entrare in questo gioco potrebbe diventare la piattaforma di voto del futuro c'era la signora che forse voleva aggiungere qualcosa in terza fila parlo in inglese anche se sono ex membro del Parlamento dell'Italia non politico pre Facebook pre web è un membro di di un sesso poco rappresentato sono stata una politica è uno svantaggio che appunto avendo una voce molto bassa le persone mi dicevano se parli piano le persone cercano di ascoltare quello che hai da dire detto ciò sarei interessata ero interessata al fatto che lei ha detto che Facebook è favorisce le donne perché lei ha detto che è un buono strumento per le qualità che sono tradizionalmente femminile la conversazione e l'ascolto piuttosto di parlare alla gente parlare con la gente quindi se potrebbe magari elaborare ulteriormente su questo punto ci potrebbe magari fornire degli esempi sarebbe molto apprezzabile alcuni esempi delle esperienze che sono venute e un'altra domanda per l'incoletta identica lei ha partecipato in un movimento veramente incredibile che è nato dal nullo in breve periodo di tempo se non ora quando e ha organizzato tante dimostrazioni a Roma ma non solo a Roma quanto è stato importante a Facebook per se non ora quando e in che modo e che lezioni ne avete tratto da questa esperienza non si sentono con vieni qui vieni qui ok magari posso prendere questo per un tempo e farlo tornare ho una domanda un po' cattiva perché ovviamente è molto affascinante il fatto di trovarsi in una posizione come quella che Elizabeth Linder occupa come policy and governance advisor per Facebook Facebook è uno strumento evidentemente di proprio cambiamento radicale di quelle che possono essere le stesse relazioni la creazione di comunità il concetto di comunità e però nella tua presentazione Elizabeth hai spesso usato la parola our company perché Facebook alla fine della fiera it's a company quindi mi interessa molto capire come non solo gestite questa interfaccia tra politica e impresa ma anche quali sono le implicazioni politiche del vostro essere a company e se voglio essere anche un po' proprio cattivella quali possono essere gli eventuali conflitti di interesse tra l'essere a company and a major tool for political change la seconda cosa che mi piacerebbe chiederti come cittadina italiana ancora un po' sotto lo shock ma non ti voglio creare difficoltà diplomatiche ma on the way di quello che sta succedendo in questo paese che come dicevo prima ha un enorme problema di leadership a tutti i livelli anche nella società civile come secondo te o qual è la discussione che si tiene tra voi dentro facebook ma non mi riferisco solo a facebook mi riferisco a tutti i social media tra queste nuove forme disperse di leadership per cui ieri una ragazza di 24 anni una ragazza che vende gelati assolutamente anonima a Firenze ha mandato un messaggio a Grillo e ha ottenuto 120.000 supporters nel giro di 30 ore quindi come si combina questa leadership così dispersa così diffusa così innovativa anche così partecipativa così promettente ai 30 secondi e invece quelli che sono le vecchie consolidate classiche tradizionali strutture di governance la risposta alla meno un'ora sono una serie di domande veramente molto interessate forse alcuni hanno delle risposte da dare alle tematiche sollevate prima di tutto per quanto riguarda il concetto della conversazione e come competenza della leader per iniziare da qui dalla collega del sole ad essere onesti non lo vedo non vedo la conversazione come la competenza che è necessaria avere per essere un leader quello che è diverso nel ventunesimo secolo è che la conversazione è una competenza che viene vista come una competenza che viene ammirata nei leader non che sia più importante di altre competenze e infatti penso che sia ancora vero che alcuni bravi leader non avranno avranno poche competenze in materia di conversazione questo va bene magari non sono bravi nelle conversazioni ma sono bravi a fare altre cose quindi è la competenza forse sono ben felice di stare seduti nel loro ufficio io vengo da una società di ingegneri non tutti ingegneri amano la conversazione eppure stanno costruendo dei prodotti straordinari penso che la differenza è che la conversazione adesso è sulla mappa e questa è una cosa di veramente molto interessante e affascinante perché di tutte le conversazioni che io ho avuto nel passato sui grandi leader in vari momenti nel tempo nella storia alcuni sono grandi per motivazioni diverse ma è molto raro avere un dialogo bidirezionale come elemento che è stato ammirato dal pubblico e dalle persone leggo oggi dei politici sono molto bravi in questo dialogo con i cittadini lei ha menzionato la voce e io parlo ovviamente con la mia voce alta e americana forse sicuramente dovrei utilizzare la mia voce europea e parlare con un tono più basso ma questo è interessante perché questo è un altro elemento di leadership prima della televisione parlavamo sempre di come i leader non dovevano avesse queste competenze per parlare in televisione che oggi invece devono avere per partecipare ai dibattiti in televisione come questo ha portato ai cambiamenti di qualsiasi meccanismo legato alla tecnologia e alla comunicazione richiede competenze diverse che alcuni hanno e fanno bene altri no che dovrebbero non dovrebbero essere eletti forse no questo non è il punto ma questo fa parte delle competenze che oggi vengono prese in considerazione per quanto riguarda i falsi account se riesco a ottenere un url della sua pagina metterò un mi piace sulla sua pagina quindi almeno ce ne avrà una ma penso che sia essenziale fare leva sulla comunità per assicurarci che le voci autentiche che vengono rappresentate sono presenti e gli account falsi ci vengono signolati mi piace dire che Facebook la polizia la forza di polizia più grande perché abbiamo un miliardo di persone che possono inviarci segnalazioni perché questo è molto importante perché Facebook la sua genesi si è basato sul fatto che è una piattaforma basato sul nome reale si è quello che si dice di essere qui creare account falsi impersonare account persone altre persone non è ovviamente non rientra nella nostra politica nella nostra nation detto ciò ovviamente non voglio creare confusione le pagine relative alle comunità o pagine che riguardano l'opinione relative a una persona questa va bene questa è una distensione far finta di essere Elizabeth Twitter piuttosto che una pagina di comunità che rappresentano che ne so un milione persone che amano odiano Elizabeth Twitter vanno bene entrambe le pagine perché si tratta di pagine di opinione ma penso mi piace perché mi piace pensare che il mio lavoro permetta alle persone appunto di segnalare questi account falsi con i leader politici è necessario semplicemente iniziare far sì che siete presenti in modo che le persone sanno chi sei e ti possono fidare di te non direi almeno per quanto ne so io che noi abbiamo un punto di vista relativo al voto elettronico questo è qualcosa che spetta ai governi decidere i leadership i rappresentanti beh mi spiace non fornire ulteriore informazione posso dire che c'è molta ricerca in corso che ha dimostrato l'impatto che i social network e gli amici gli amici gli amici hanno sulla tua decisione in voto per parlare dell'opinione pubblica se io ho una conversazione con tutti i presenti in questa sala relativa alla vostra opinione sulla nuova leadership di questo paese sarò più ispirata a pensare a quello che avete detto voi piuttosto che leggere che ne so un articolo di giornale magari che non conosco il giornalista mentre se avessi il giornalista qui in sala avrei la possibilità di conoscerlo e quindi approfondire quindi questo è un punto molto interessante da sollevare alcuni esempi relativi alla mia illusione relativa alle qualità di leadership che vedo come qualità che le donne tendono a avere la genesi di questa conversazione per me ha avuto risale con un programma di outreach di contatto che ho fatto in partenariato con il dipartimento di stato il dipartimento di stato americano ha iniziato il suo programma società civile 2.0 per far sì che le persone capiscano le tecnologie le comunicazioni abbiamo i tech camps e ne abbiamo fatti sei si tratta di un programma in cui credo moltissimo e ha avuto molto successo e non ho potuto fare a meno che di notare che uno di questi eventi il programma è stato concepito proprio per le leader donna a Tel Aviv e Ramallah e come rappresentante Facebook stavo osservando come queste donne parlavano e usavano Facebook per la maggior parte ONG ma c'erano anche alcuni leader politici e ho notato quanto era naturale porre domande e fare commenti e questo è stato questo il momento in cui ho iniziato a pensarci è così naturale per queste donne venendo da background completamente diversi da luoghi molto diversi eppure sembra che ci sia qualcosa lì ma naturalmente io sono un dipendente di Facebook che si occupa di politica non sono una storica una ricercatrice in questa materia quindi si basa esclusivamente sulle mie osservazioni e mi piacerebbe vedere delle ricerche che approfondiscono questa tematica e possono magari analizzare come vengono utilizzate le varie pagine Facebook ma dobbiamo stare attenti perché non tutte le pagine Facebook viene gestita dalla persona rappresentata su quella pagina soprattutto ai più livelli alti di leadership a livello nazionale a livello statale o locale ci sarà delle persone uno staff che gestiscono questa pagina a volte è interessante vedere le dinamiche perché ci sarà magari un politico che vuole essere parte vogliono utilizzare il proprio iPhone o BlackBerry e aggiornare la pagina mano a mano e le fotografie vengono invece vengono caricate dallo staff o a volte ci saranno delle pagine gestite interamente dallo staff o a volte ci sarà un politico che non permetterà allo staff di mettere mano alla pagina quindi bisogna magari togliere queste strati superficiali per capire chi sta dietro a quella pagina questa è una cosa molto divertente da fare e per quanto riguarda invece la domanda relativa alle relazioni tra Facebook come società e le relazioni politiche è molto affascinante dovrei dire perché è veramente molto affascinante perché è qualcosa di veramente nuovo ci sono tanti think tank gruppi di studio organizzazioni accademiche conferenze che iniziano a riflettere su qual è il rapporto l'attore politico e l'attore non statale dove possiamo trovare nuove aree per stabilire un collegamento dove dobbiamo parlare dove invece dobbiamo fare un passo indietro per essere certi di non avvicinare come sono queste relazioni devo dire nella mia esperienza che mi piacerebbe vedere una conversazione più formale in materia di queste relazioni perché è qualcosa di cui parlo tanto nei corridoi nelle istituzioni magari di ricerca o di esperti ma allora forse dovremmo veramente riunire le persone che rappresentano i governi le aziende dei ricercatori gli studiosi e diciamo ok ventunesimo secolo cominciamo a capirci qualcosa e capire come possiamo rendere il tutto più produttivo perché le cose stanno accadendo i politici utilizzano i social media e quello che avviene sui social media ha delle ripercussioni nella vita reale quindi non sono completamente separate quindi c'è molto più spazio per leadership su questo aspetto perché non abbiamo un precedente in questo settore e ovviamente la relazione tra politica estera e ambasciate che utilizzano Facebook per mettersi in contatto con la popolazione locale spesso ritengo che la persona che gestisce la pagina Facebook di un'ambasciata ha magari meglio l'idea di quello che sta succedendo nel paese e io mi auguro che gli ambasciatori parlino con questa persona cosa si osservano nei commenti che si ricevono come risposta come rispondano le persone alla visita di John Kerry e qui ho sentito qualcosa a riguardo delle risposte dell'ambasciatore a seguito della visita e quindi qui a Roma sta accadendo ma mi auguro che accada anche altrove ma l'idea mi sembra strano che qualcuno metta questi post e nessuno chiede come sta reagendo il pubblico quindi si allaccia al soft power e politiche in modi che non abbiamo ancora mai visto e poi ovviamente la distinzione tra leadership partecipativa e dispersa e la leadership tradizionale dobbiamo essere molto attenti a non elevare una a scapito dell'altra come nelle campagne politiche dove non si può optare solo per la strategia online ci sarà si utilizzerà ovviamente il porta a porta i town hall il telefono bisogna utilizzare tutti questi strumenti a volte c'è troppa differenziazione tra questi due mondi come se ci fosse una grande distinzione fra i due ma quando si vanno a vedere le varie pagine le persone che commentano su queste pagine sono persone vere poiché è facebook si può cliccare il nome della persona ok questa persona viene da Sacramento in California questa è quella che pensa questa persona viene da Verona questo è quello che pensa quindi ci si rende conto che questo è il mondo reale ma si tratta di tante persone che provengono da tutte le parti del mondo che hanno background completamente diversa quindi come possiamo fare per ascoltare queste voci in modo tale da tener conto della natura globale l'ampia natura globale della conversazione è un po' in natale che poi chiudiamo perché abbiamo esattamente dieci minuti e chiudiamo completamente la sessione quindi velocissimi velocissimo velocissimo salve sono Giovanni Straffadano sono uno dei responsabili insieme ai miei colleghi della comunicazione web dell'onorevole Giorgia Meloni e noi abbiamo appunto affrontato in pieno il problema della comunicazione via web perché eh lo so più breve allora la domanda è Facebook prevede di sviluppare dei tools specifici per le fanpage dei politici o dei movimenti politici perché noi abbiamo riscontrato come abbiamo avuto molta più comunicazione e richieste di messaggi e comunicazioni anche ufficiali attraverso la fanpage che attraverso i canali del sito web o i canali per esempio del classico telefonata esatto tradizionale il telefono o il centralino del partito grazie ok buonasera sono Mirella Ferlazzo io sono responsabile della trasparenza del ministero dello sviluppo economico volevo farti una domanda relativa al problema della trasparenza perché diciamo e soprattutto ai rapporti che tu in questi anni hai avuto con le istituzioni governative perché sicuramente nell'esperienza di questi ultimi anni per noi è stata una grande occasione confrontarci con questo problema perché sicuramente ha migliorato molto la nostra comunicazione interna la qualità dei nostri prodotti la necessità di formare il nostro personale per metterlo in grado di rendere i dati diciamo accessibili agli utenti esterni e questo sicuramente è stata anche una grande opportunità di crescita però poi il vero problema secondo me di fondo resta il problema del coinvolgimento effettivo nelle politiche nell'impostazione delle politiche diciamo delle amministrazioni il coinvolgimento degli stakeholder esterni cioè dei cittadini diciamo di tutti gli interessati perché questo diventa veramente un po' più complicato data anche la complessità diciamo delle nostre delle procedure e anche diciamo poi come fare sintesi rispetto a questo c'era una ecco sempre in terza fila Ilaria Masinara responsabile comunicazione per il contatto italiano dell'agente delle emozioni per i giocati palestinesi che già questo mi ha portato io a metà del tempo rispetto a social media e compagnie sociali quanto il like diventa un sostituto di un impegno più concreto e l'altra domanda invece è rispetto ai tempi di cui si è in social media che in facebook e ancora di più twitter con il limite dei caratteri quanto la velocità influisce poi sulla fruizione cioè sull'approfondimento rispetto alle tematiche grazie chiediamo ad Elisabeth di essere veramente molto veloce ok velocità ottimo punto da partire per partire visto che devo essere veloce io credo che quello che sia interessante è che i vari politici lo stanno elaborando in maniera diversa alcuni politici nei loro commenti dove spiegano perché ho votato così come ho fatto e l'ho citato prima nelle mie osservazioni di apertura in cui si dicono questo è il motivo per cui ho avvitato così alcune di queste risposte possono essere lunghe tre o quattro paragrafi in cui si mettono lì e dicono fammi parlare di questa cosa perché questa cosa è importante per me e ritengono buone ottengono buone risposte un buon feedback io non credo che debba essere veloce e breve per avere valore noi consentiamo su Facebook le risposte lunghe non rappresento Twitter con lui non posso parlare per Twitter ma credo che vada bene la chiave tuttavia per quello che riguarda la velocità del tutto è che quando le cose vanno avanti in tempo reale in altre parole non stai osservando o riflettendo su qualcosa facendo osservazione riflettendo ma per esempio arriva il terremoto come il mio esempio in quel caso la società moderna ci chiede di essere molto veloci nel dire qualcosa anche se questo qualcosa non è incredibilmente profondo io credo che la velocità della comunicazione in un certo senso abbia alterato questo tipo di risposta quanto la complessità o la sintesi delle informazioni dei dati io credo che sia un qualcosa di cui ho sentito parlare vari governi mi chiedo se le nuove tecnologie possono aiutare queste soluzioni ormai vivo a Londra e ho un po' cercato o sono andato a guardare i siti web che aiutano per esempio a lavorare le leggi cercando di capire la trasparenza e tutto ma io credo che la sperimentazione circa quale tipo di tecnologia può essere più adatta è qualcosa di importante Facebook è secondo me una parte incredibilmente importante di questo puzzle ma non è l'unica tecnologia che dobbiamo utilizzare per tutto ciò e credo che ci sarà molta creatività nello sviluppo rispetto a quello che la tecnologia fa per mantenere il passo e sintetizzare tutto e lo si può vedere anche nel campo di Facebook le applicazioni che si possono mettere sulla pagina di Facebook che vi possono aiutare a gestire meglio o a dare una migliore tempistica sono sicura che però andremo ad assistere a cose sempre più frequenti in questo senso e poi che cosa ho lasciato fuori le campagne sociali mi ricordate un attimo la prima domanda per cortesia Sì è una domanda sociologica quando i likes ti trasformano in azione quello che abbiamo visto nelle campagne politiche quello che vediamo quando le persone si impegnano semplicemente con i like e condividono i commenti questo comporta anche una maggiore azione politica secondo molti sondaggi ma parimenti e parlavano con parlavo con un attivista di un paese medio oriente che ha detto che lei è preoccupata di un'ipotetica risposta tipo I like ora vedremo dovremo osservare sicuramente gli studi da noi eseguiti nel campo politico mostrano che l'impegno su una pagina facebook può aumentare anche la partecipazione effettiva a certe attività e questi studi vengono fuori da alcune risorse ricerche nel campo delle lezioni e questa può essere forse una buona risorsa dove andare a cercare queste cifre per dare seguito a quello che tu hai detto esattamente per questo che sono onora quando ho riuscito a portare più di un milione di persone in molte città in Italia e anche fuori dall'Italia è stato fondamentale è tutto partito come una cosa su facebook il tutto è stato realizzato in due settimane che ci crediate o meno è andata così e poi anche le lezioni apprese è uno strumento molto potente ma il modo per controllare le voci interne le frustrazioni interne come governare anche il discorso pubblico tutto va su facebook una cosa in cui ci sono tante cose da imparare e le persone devono imparare anche una certa disciplina la cultura di facebook ci sono cose che potete rendere pubbliche opinioni contrastanti o distanze alcune questioni interne non dovrebbero essere pubblicizzate è una sfida ma è anche uno strumento attraverso il quale tutto il movimento va avanti assolutamente noi ringraziamo moltissimo con un applauso mi sento di incoraggiarvi Elisabeth vi ringrazio questa sera veramente abbiamo imparato moltissimo avremo sicuramente delle parole chiave da condividere nei prossimi giorni grazie ancora all'ambasciatore speriamo che questo sia veramente uno dei tanti appuntamenti e mi sento di invitare nuovamente Elisabeth qui da noi grazie all'ambasciata magari la seconda lezione grazie a tutti grazie a tutti avremmo potuto andare avanti per un altro paio di ore abbiamo esplorato alcuni argomenti fantastici ma abbiamo soltanto grattato la superficie vogliamo ringraziare Elisabeth Lentro e vogliamo ringraziare Nicoletta Dentico D'Anno se non ora quando e Simonetta Calleiro della Social Innovation Society da parte dell'ambasciata qui a Roma grazie a tutti